Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel libro appena pubblicato da sagge peditori dal titolo Musei e Medioevo. Suggestioni sull'età di mezzo nel patrimonio dei musei civici di Genova, a cura di Andrea De Pascale, che abbiamo il piacere e l'onore di avere il nostro granito ospite, al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché inizia a racconciarsi di questa interessante pubblicazione. Prego, a lei! Grazie. Innanzitutto mi fa piacere, ringrazio insomma del vostro interesse e spero che questa nostra piccola edizione sia di interesse per più persone possibili che amano appunto il Medioevo e sia un'occasione per scoprire in particolare appunto suggestioni come abbiamo messo nel sottotitolo del volume curiosità storie sul Medioevo genovese e questo volume è il terzo in realtà di una collana editoriale che l'ufficio di cui sono responsabile per il Comune di Genova, ossia i servizi educativi e didattici dei musei civici appunto curano, una collana che si chiama di educazione e mediazione del patrimonio culturale e ogni anno in sostanza la direzione musei del Comune di Genova sceglie un argomento, un tema che propone a tutte le variegate e numerose realtà del nostro sistema di musei civici, sono 21 diverse strutture che spaziano dal paleolitico quindi dall'archeologia più antica all'arte contemporanea con tutte le veramente variazioni che possono venire in mente quindi dalla storia naturale alla storia della navigazione, le culture del mondo eccetera che sono rappresentate appunto nelle collezioni dei nostri musei e ciascun museo sceglie un'opera o alle volte anche può essere come vedremo proprio nel caso del volume dedicato al medioevo il contenitore stesso che accoglie le collezioni di quel museo presentandolo attraverso la voce dei colleghi curatori responsabili delle singole strutture attraverso una narrazione scientifica ovviamente ma con un taglio divulgativo piacevole quindi che arrivi a tutta un'operazione appunto di educazione e mediazione del patrimonio culturale e i primi due volumi sono stati dedicati al barocco nel 2022 perché Genova aveva ospitato una importante mostra dedicata all'artista Pietro Paolo Rubens e una serie di altre mostre durante tutto l'anno dedicate a questo importante periodo storico artistico per la città di Genova e nel 2023 invece abbiamo scelto come tema il mare perché la città di Genova aveva ospitato la tappa finale di un evento velico di importanza mondiale la regata The Ocean Race che attraversa i mari di tutti i continenti e quest'anno abbiamo invece scelto il medioevo non a caso ma perché nuovamente ci siamo collegati a un'iniziativa importante per la città di Genova che è il progetto IANUA Genova nel medioevo un progetto che è stato lanciato dall'amministrazione comunale di Genova insieme all'università di Genova all'università di Roma e altri diversi soggetti italiani ed esteri proprio per promuovere e valorizzare l'immenso patrimonio architettonico storico artistico documentario che ci permane di questo periodo così fondamentale per appunto il capoluogo ligure del resto è abbastanza ben noto insomma che tra il decimo e il quindicesimo secolo Genova di fatto ha proprio costruito la sua identità culturale politica sociale che poi nei secoli successivi si è rafforzata cresciuta ed è partito da quella fase da quel momento il fatto di essere un po' come il nome stesso appunto lo evoca porta del Mediterraneo sul Mediterraneo quindi punto anche strategico di di contatto tra il nord e il sud del dell'Europa e del Mediterraneo tra l'est e l'ovest e dando quell'immagine insomma della città che ancora oggi la caratterizza un po' di essere un crocevia un punto di incontro tra culture e religioni differenti e il il volume ha appunto un taglio come dicevamo scientifico ma ma divulgativo e in pratica le 21 strutture che caratterizzano il il nostro sistema museale presentano ciascuna appunto un'opera o un elemento legato al al tema medioevo che viene presentato attraverso dei testi e delle immagini e posso magari mostrarvi qualche interno appunto del volume questo è l'apertura e ma scorrendo questa immagine quella che abbiamo scelto un po come simbolo in apertura del volume nella parte di introduzione è un particolare del celebre monumento funebre di margherita di bravante realizzata da giovanni pisano uno dei grandissimi artisti del medioevo italiano opera che è conservata in uno appunto dei musei civici di genova il museo di sant'agostino che tra l'altro dopo alcuni anni di interventi ha riaperto da pochissimo da un paio di mesi con un suggestivo allestimento nel suo chiostro triangolare nella chiesa di forme gotiche presentando alcuni appunto dei capolavori delle collezioni museali in attesa che venga totalmente riaperto il percorso espositivo e appunto margherita di bravante che troneggia oggi nel percorso di visita nella chiesa di sant'agostino è questa importantissima opera realizzata intorno al 1313 14 per ricordare appunto la moglie del dell'imperatore che durante il loro viaggio spostamento tra la germania e roma perse la vita qui a genova e trovò quindi collocazione in una chiesa la chiesa di san francesco edificio importantissimo del medioevo genovese anche perché accoglieva appunto tantissime opere d'arte veramente notevoli edificio che oggi non esiste più perché dopo la soppressione degli ordini religiosi venne demolito nel corso del appunto dopo la soppressione del 1798 in varie fasi e di cui però oggi ci rimangono per fortuna non solo alcune opere come questo capolavoro di giovanni pisano nelle collezioni dei nostri musei ma anche alcuni resti archeologici e monumentali e a tal proposito faccio scorrere rapidamente le pagine e raggiungo quella dedicata appunto ai resti proprio della chiesa di san francesco di castelletto che eccolo qui è la scheda che i colleghi dei musei di strada nuova in particolare di palazzo bianco che è una pinacoteca con anche un importante allestimento dell'architetto franco albini esempio di museologia negli anni 60 50 60 nel suo percorso di raccordo a palazzo tursi che fa sempre parte del punto complesso dei musei di strada nuova presenta vedete questi resti archeologici che sono riemersi alcuni anni fa durante appunto gli interventi per la realizzazione del nuovo percorso espositivo e che hanno riportato alla luce proprio parte di quello che rimane di questo grande complesso della chiesa di san francesco dove appunto anche margherita di brabante trovava la sua collocazione originaria e o andando ad esempio alla scheda del museo di sant'agostino troviamo invece un altro monumento funebre molto importante che è la tomba del primo doge della città ossia simon boccanegra di cui viene presentata appunto nella scheda lo vedrete tra poco eccolo qui un particolare del volto del monumento funebre appunto del del doge quest'opera è datata agli anni 60 del 1300 e quest'opera era anch'essa in origine pensate conservata nella chiesa di san francesco di castelletto di cui abbiamo poc'anzi parlato e oggi è uno dei capolavori ancora una volta delle collezioni del museo di sant'agostino quindi capite anche che come dire le singole schede che raccontano un qualcosa di ciascun museo civico genovese in realtà sono correlate tra loro perché sono storie che si intrecciano che si completano anche l'un l'altra e qui si vede anche la ricostruzione del dei frammenti superstiti del del monumento funebre così come sono appunto presentati nel nel percorso espositivo del museo o a proposito di medioevo demolito così come è stato definito da incercatori che si sono occupati nel corso del tempo di questo argomento un luogo particolare tra i musei civici che è il centro di documentazione per la storia l'arte e l'immagine di genova che raccoglie un patrimonio molto importante con la biblioteca di storia dell'arte ma anche l'archivio storico fotografico con opere fondamentali di alfred noach per esempio solo per citare il nome più noto e anche le collezioni topografiche ha scelto non una singola opera ma di raccontare nelle pagine a disposizione la storia della chiesa di san tommaso altro edificio appunto del medioevo genovese importantissimo realizzato a partire da il sesto secolo addirittura e che venne sacrificato nel corso del diciannovesimo secolo per quel momento che la città ha vissuto siamo in una zona nei pressi del porto dell'attuale stazione marittima che tuttora svolge questa funzione di capolinea diciamo così di importanti collegamenti navali per il trasporto passeggeri e dicevo appunto venne sacrificato questo edificio al progresso e quindi le mura vedete di difesa della città che su cui si affacciava direttamente il mare che immediatamente proteggevano qui si vede la grande torre nolare del complesso venne demolito per lasciare spazio alla nuova viabilità alla stazione marittima stessa e alla modernamento della della città appunto e il centro doxai questo l'acronimo appunto del centro di documentazione per la storia l'arte e le immagini di genova racconta questa storia attraverso i suoi materiali quindi alcuni acquarelli come avete visto prima di artisti che ritrassero il monumento prima della sua demolizione o foto come questa importantissima che documentano proprio le fasi di demolizione una foto di fine ottocento del 1884 circa che documenta appunto questa dolorosa fase di fine vita di questo monumento importantissimo e qui c'è un'altra veduta invece di pasquale domenico cambiaso della metà del diciannovesimo secolo quando il complesso architettonico era ancora diciamo in vita ma scorrendo le pagine troviamo altri elementi interessanti anche inaspettati forse meno noti presenti nelle collezioni civiche questo che vedete per esempio è un particolare di un velluto che è conservato nelle civiche collezioni tessili che sono una delle raccolte dei musei di strada nuova è una manifattura del quindicesimo secolo di produzione italiana forse genovese sappiamo del resto che genova insieme ad alcuni altri centri italiani come lucca venezia avevano una produzione molto importante appunto di velluti e che racconta appunto di questa arte manifatturiera fondamentale c'era una corporazione anche nella genova medievale di questi produttori con loro cappelle altari all'interno delle chiese legate appunto alla corporazione e ci racconta anche come si può vedere dalle degli esempi dei decori presenti sul pezzo dei contatti che dicevamo all'inizio genova dal medioevo in poi intessuto in maniera molto forte anche con l'oriente e in particolare con il mondo anatolico turco ma non solo era uno dei punti di arrivo insieme a venezia praticamente della via della seta e un altro elemento sicuramente importante che racconta proprio diciamo così l'identità della città è questo scelto invece dalle collezioni numismatiche dalle civiche collezioni numismatiche è un particolare vedete di una moneta d'oro il cosiddetto genovino la moneta che appunto la zecca di genova iniziò a battere a partire dal 1252 in cui viene raffigurato come simbolo vedete proprio una porta una porta di ingresso alla città e appunto sappiamo che il termine janua il nome della città deriva proprio anche da dall'indicazione della porta e o ancora spostandoci in un'altra realtà che sono le collezioni ceramiche dei musei di strada nuova questo piatto che di manifattura spagnola dall'andalussia un pezzo del quattordicesimo secolo ceramica smaltata in cui si vede all'interno uno stemma uno stemma nobiliare bipartito e in questo caso la storia è molto interessante perché il pezzo venne prodotto in andalusia ma è stato ritrovato durante scavi archeologici qui a genova e soprattutto lo stemma che troviamo racconta di due famiglie di cui una sicuramente genovese quella raffigurata vedete qui da questo grillo la famiglia grillo appunto che fu una delle più importanti famiglie nobiliari della genova medievale e anche nei secoli seguenti non conosciamo invece l'identità non è ancora stato svelato l'identità dello stemma nella parte a destra con queste tre sembrerebbero piccole anfore otri che probabilmente fanno riferimento a una delle due famiglie di cui questa scodella probabilmente insieme anche ad altri materiali andava a celebrare un'unione di nozze come era normale appunto in quest'epoca e ancora scorrendo il volume mi piace ricordare che anche quei musei nel nostro sistema civico genovese che apparentemente non hanno all'interno delle loro collezioni un come dire materiali risalenti al medioevo hanno in realtà trovato come sempre avviene in realtà nella nostra collana editoriale in cui i curatori responsabili delle singole strutture riescono poi a trovare nella varietà delle nostre raccolte sempre un collegamento al tema che viene scelto ogni anno riescono appunto a trovare delle interessanti storie da raccontare e dei pezzi all'interno delle collezioni da valorizzare in questo caso siamo nelle pagine dedicate al gabinetto disegni e stampe di palazzo rosso un'importantissima raccolta di disegni bozzetti di opere risalenti all'età barocca e a epoche successive e tra i pezzi presenti nella collezione la collega che ha curato appunto questa parte nel volume ha scelto questo una serie di disegni di cui questo è un dettaglio un particolare di bartolomeo pinelli un artista di fine settecento o i primi decenni del 1800 che realizzò 83 disegni a matita e 145 incisioni che poi vengono rilegate in tre volumi per illustrare la divina commedia che è ovviamente il capolavoro letterario del medioevo ed ecco qui che si trova il collegamento al tema al periodo storico che era stato dato trovando anche in materiali appunto di altre epoche quindi per parlare di tutto il sistema museale civico genovese elementi di interesse la scheda successiva vi mostro ancora qualcosa è dedicata invece a un pezzo di età medievale importantissimo conservato nel museo del tesoro della cattedrale di san lorenzo pezzo che in realtà è sì medievale ma affonda le sue origini in un periodo storico ancora precedente si tratta di un piatto in calcedonio di manifattura romana proveniente dai territori orientali del dell'impero probabilmente dall'area egizio palestinese risalente al primo secolo dopo cristo che venne portato come reliquia durante ovviamente il periodo delle crociate e riconosciuto come il piatto in cui venne accolta la testa del battista e proprio in quel momento viene trasformato in preziosito arricchito come vedete da questa montatura di oro e feceria con oro e rubini con la testa del battista realizzata in smalto e oro ed è un classico esempio appunto anche di quelle trasformazioni no che nel medioevo vengono attuate di quei riusi reimpieghi che spesso siamo abituati a vedere negli edifici soprattutto quanti pezzi di epoca classica vengono riempiegati no per scopo decorativo ma spesso anche celebrativo di impreziosimento di molti edifici medievali italiani ma il riempiego riuso alle volte viene attuato anche su oggetti come questo che trovano e anzi rafforzano la loro identità il loro significato simbolico attraverso un'ulteriore lavorazione ed è interessante anche la storia dietro a questo piatto di come si è giunto nel tesoro della cattedrale di san lorenzo e oggi appunto al museo in quanto sappiamo diversi documenti che questo pezzo appartenne al cardinale d'anger che era consigliere e amico del re di francia luigi undicesimo e da questo passò poi nelle mani di giovanni battista cibo de mari che venne genovese che venne eletto papa nel 1484 con il nome di innocenzo ottavo e fu proprio papa innocenzo ottavo che decise di donare questo preziosissimo oggetto dal forte valore simbolico al tesoro della cattedrale della sua città natale e vi mostro ancora un altro caso particolare per dare l'idea appunto della varietà delle collezioni dei musei civici in questo caso siamo nelle pagine dedicate al museo d'arte orientale edoardo chiossone di genova che è una realtà purtroppo ancora poco nota ma che mi piace ricordare sottolineare è il più importante museo d'arte giapponese presente al mondo al di fuori dei confini del del giappone per numero di pezzi presenti nelle collezioni e per la qualità anche dei materiali presenti che venne fondato venne creato da edoardo chiossone appunto di cui riporta il nome che fu uno di quegli europei che assunse un ruolo importante nel giappone di fine ottocento quando questo paese si aprì al mondo e edoardo chiossone divenne il responsabile pensate della zecche poligrafico del nipponico per cui disegnava le banconote appunto dello stato giapponese e durante il suo periodo di permanenza in giappone quale amante dell'arte era mise in piedi una collezione appunto importantissima che poi donò alla città di genova e qui oggi appunto il museo presenta in questa raccolta e anche il museo d'arte orientale chiossone ha partecipato appunto a questo volume dedicato al museo medioevo scegliendo quest'opera molto particolare che è un pezzo della prima metà del diciassettesimo secolo quindi in realtà non siamo nel medioevo da un punto di vista cronologico e poi ovviamente la storia del giappone dell'estremo oriente segue ovviamente cronologie diverse da quella europea ma è un pezzo che raffigura questo è un dettaglio molto ingrandito qui potete vedere un altro dettaglio e qui il pezzo nel suo insieme è un grande paravento in più ante decorato vedete con questo fondale dorato in cui sono raffigurate in una visione panoramica e narrate delle più importanti battaglie e tecniche di combattimento del giappone medievale e quindi nuovamente un pezzo che apre una storia curiosa inaspettata forse sul medioevo e concludo mi piace concludere se poi sono domande ovviamente sarò lieto di rispondere con questa immagine vedete è un lupo chiaramente fa parte delle collezioni tassidermiche del museo di storia naturale di genova perché il museo di storia naturale ha scelto il lupo per collegarsi al tema medioevo perché è proprio nel medioevo che questo animale che si era praticamente estinto nella nostra penisola che negli ultimi decenni invece grazie ad azioni di di salvaguardia sta andando a ripopolare un po tutto l'appennino italiano e non solo è proprio nel medioevo che a questo animale viene assegnato per fattori simbolici religiosi eccetera questa aura negativa che si è portato poi nel corso dei secoli dietro e che come dire ancora oggi nell'immaginario collettivo caratterizza questo animale e quindi il collega che ha curato appunto la scheda per il museo di storia naturale partendo appunto da questo esemplare presente nelle collezioni racconta di bestiari medievali e di tradizioni e storie di quel periodo legato a questo animale e questo per dire che appunto il volume spazia veramente su periodi storici diversi ma la connessione al medioevo ovviamente è quella sempre che fa da principe su collezioni molto differenti avete visto opere d'arte artisti appunto opere d'arte nel senso puro del termine materiali invece più di tipo documentario reperti archeologici elementi anche di altre culture del mondo che è poi la forza appunto del sistema museale civico che di fatto con queste 21 strutture sparpagliate per la città e spesso all'interno di edifici storici di grande rilevanza creano di fatto un grande museo diffuso su tutta la città che permette veramente di raccontare storie di narrare storie sui più diversi argomenti molto interessante anche anche perché appunto come accennava prima questa operazione si inserisce nel quadro di un evento che durerà tutto l'anno perché bianua genova nel medioevo credo che si continuerà ad articolare in iniziative di ogni genere conferenze convegni anche rievocazioni se non vado errato e quindi quale miglior occasione si può avere se non andare a visitare una città bella come Genova comprando questo libro e utilizzandolo anche come guida in un certo senso quindi io ricordo il titolo che è musei e medioevo suggestioni sull'età di mezzo nel patrimonio dei musei civici di Genova appena pubblicato da salge peditori tra l'altro il costo è veramente irrisorio perché costa 10 euro curato da Andrea De Pascale che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gradito ospite e che io ringrazio veramente tanto grazie a Italia Medievale per questo spazio per far conoscere maggiormente il nostro patrimonio culturale grazie a tutti